Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Dopo i vari rimbalzi di notizie e compagni di viaggio, Antonella Fiordelisi parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express con Estefania Bernal. Per la donna si aprono le porte di una nuova esperienza in tv dopo il grande fratello VIP. L'influencer sarà tra le concorrenti di questa nuova edizione insieme a molti volti del mondo della tv tra cui Fabio e sua figlia Eleonora Caressa, Damiano e suo fratello Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice da Marefuori, Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi, l'attrice Nancy Brilli, Pierluigi Iorio, Cristian Ghedina, Francesca Piccinini, l'ex velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia in coppia con Barbara Petrillo. Quest'anno non sarà presente Enzo Miccio al fianco di Costantino della Gerardesca. Al suo posto ci sarà Gianluca Frou, una scelta che ha fatto molto discutere i fan del programma trasmesso da ormai qualche anno su Sky dopo l'addio da Rai 2. Appuntamento in primavera su Sky 1 e Nau TV.